Diversi forti boati e una colonna di fumo alta diversi chilometri è successo nel Mar dei Caraibi. Un vulcano che non eruttava dal 1979, proprio in questi giorni, ha iniziato ad emettere una colonna di cenere altissima che ha ricoperto poi, cadendo al suolo, diversi villaggi. Il vulcano La Souffriere dell'isola caraibica di San Vincent ha iniziato proprio alla sua eruzione pochi giorni fa. Diversi paesi sono stati letteralmente sommersi dalla cenere, soprattutto i versanti nord-orientali. Ma la colonna di fumo e polvere ha addirittura raggiunto gli abitanti delle Barbados, isola famosissima in tutto il mondo, distante da qui di ben 200 chilometri. Circa 16.000 le persone per ora evacuate e allontanate appunto dalle loro case. Gli esperti annunciano nuovi boati e possibili nuove eruzioni. Gli esperti annunciano nuovi boati e possibili nuove eruzioni.